nel nostro giro d'italia del baccalà è ora la volta della sicilia la più grande e la più bella tra le isole del mediterraneo posta al centro del mediterraneo l'isola è da secoli crocevia di popoli culture e tradizioni anche gastronomiche fenici greci romani arabi ricordiamo poi francesi spagnoli si sono avvicendati su quest'isola ci piace pensare che forse siano stati proprio i siciliani i primi ad entrare in contatto col mondo del baccalà visto che i normanni gli uomini del nord sbarcarono su queste coste già nell'undicesimo secolo il video che ora andiamo a proporvi arriva da Aicamo provincia di Trapani è una video ricetta per cui potete anche cimentarvi poi nelle vostre abitazioni a ricreare questo piatto un piatto che racchiude in sé tutta la ricchezza gastronomica della sicilia baccalà in questo caso baccalà salato ai sapori di sicilia aicamo provincia di Trapani è un'altra Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.